Sì, buongiorno, proprio così Vivi Città, la manifestazione podistica che ogni anno si svolge in contemporanea in decine di città italiane, quest'anno festeggia un compleanno speciale. Io sono in compagnia di Chiziano Pesce, presidente della WISP, presidente 40 anni, ma non li dimostra. Direi proprio così, 40 anni per Vivi Città, la manifestazione podistica direi più longeva del nostro paese, una manifestazione che nasce nel 1984 e che abbina la corsa competitiva, che oggi si corre sulla distanza dei 10 chilometri, con un'unica classifica nazionale compensata a tante passeggiate ludico-motorie. E poi ovviamente non posso che ringraziare la RAI, perché la RAI ci accompagna, ci supporta da 40 anni. Il Via Vivi Città lo daremo dai microfoni di Radio 1 RAI. Ogni anno Vivi Città affronta un tema diverso, qual è quello scelto per questa edizione? Sì, diciamo che Vivi Città corre e cammina sempre per i diritti, per l'ambiente, per la solidarietà. Ma quest'anno direi che due sono i temi specifici, particolari. Una dedica alla pace, e purtroppo non potrebbe che essere così, con una staffetta che correremo nelle vie di Roma. Partiremo dalla moschea, toccheremo la sinagoga per arrivare in piazza San Pietro. E poi una Vivi Città speciale per la legalità. A Caivano, correremo, cammineremo insieme alle associazioni di terzo settore con cui portiamo avanti, con il nostro comitato regionale UISP Campania, un progetto importante di educativa di strada attraverso lo sport. Partiremo dal Parco Pubblico Falcone e Borsellino e attraverseremo tutte le strade del Parco Verde. Grazie mille Presidente, a voi.